Giovedì una classe abbastanza tranquilla visto che ieri abbiamo lavorato in maniera abbastanza pesante ci aspettano 800 metri di scorsa come riscaldamento poi abbiamo un po' di lavoro sulle spalle abbiamo due minuti di band e balli uno per lato per quanto riguarda l'esercizio se non lo conoscete seguite i link qui sotto poi abbiamo dei semplici cerchi fatti con le braccia e facciamo 10 in avanti e 10 indietro allargando man mano sempre lo spazio di rotazione a seguire il pass through con il PVC e poi l'esercizio chiamato round the world sempre col PVC cioè col PVC che ci ruota intorno alla testa in questo caso il mondo tutto questo per introdurre il lavoro sulle skills che sarà un lavoro di 3x8 shoulder press a questo punto caricando il bilanciere man mano in maniera progressiva quindi andando sempre più avanti e ci porteremo a casa queste ripetizioni a seguire il walk del giorno che oggi è abbastanza tranquillo ed è composto da 5 round for time con 10 dumbbell bench press 10 dumbbell bent over the row poi abbiamo 20 push up e narrow stance quindi con le mani piuttosto allargate 20 ring row e per chiudere 400 metri sul rover questo è tutto ci vediamo domani per l'ultimo vol della settimana ciao